buona giornata amici oggi è 25 agosto 2021 possiamo considerarla nonostante il temporale una bella giornata perché dopo un'estate torrida che ha bisogno di essere lenita un po d'acqua e un po di fresco ci voleva proprio noi come sempre questa mattina iniziamo la giornata con la rassegna stampa sul resto del carlino e sul corriere adriatico ma partiamo subito con il santo del giorno e poi con il meteo oggi è san ludovico ovvero luigi nono re di francia era un principe della casa d'angio nacque a tolosa di cui fu anche vescovo fu anche frate francescano ed è famoso luigi nono non solo per le sue gesta perché condusse anche una crociata in terra santa ma perché fu un uomo pio e di grande umanità e veniamo ora al meteo il meteo vediamo la piantina con nuvole e pioggia oggi il tempo è instabile con rovesci e temporali sparsi localmente intensi la tendenza comunque è un miglioramento nel tardo pomeriggio temperature sono in calo i venti sulle coste vengono da una tendenza medio da nord nord ovest e sull'interno debole da nord est le temperature come abbiamo detto sono in calo e diamo subito un'occhiata alle prime pagine dei giornali e sul resto del carlino la sintesi delle notizie all'interno profughi afghani nel covid hotel anche le marche si fanno solidali per ospitare i profughi che giungono dall'afghanistan in venti arrivati nel pomeriggio da ieri a kabul e ospitati a gabice mare ora dieci giorni di quarantena poi si parla di scuola l'anno scolastico non è molto lontano scuola i nodi della riapertura pronti a fare i test salivari a tutti vedremo questa notizia poi sviluppata nell'interno la contestazione c'erano anche le uova per il ministro speranza che ha fatto visita a pesaro non sono state tirate ma sono state poi sequestrate e poi si parla ancora del roff il 52 per cento degli spettatori veniva dall'estero e poi una ragazza di 16 anni per la cronaca investita da un'auto in elia ambulanza torrette è ancora l'ondata anomala dei furti sugli scooter un'altra vittima la testimonianza è quella di aver visto il furgone bianco che poi le di sequestra per quanto riguarda lo sport vediamo calcio dilettanti in rampa di lancio il resto del carlino pubblica i calendari sul corriere adriatico il titolo di apertura è dedicato alle palestre comunali eccolo qua caos per le palestre comunali boom di domande preparazioni al via ma mancano ancora gli spazi la comunicazione degli orari e in attesa le società che fanno attività giovanili certificazione tamponi gratis servono indicazioni per poter iniziare serenamente l'attività pesaro gioca un'altra carta una grande opportunità è quella dell'eurovision continua il sogno di pesaro con il vitifrigo arena che potrebbe essere la cornice di questa di questo grande evento a livello europeo con l'inserimento della città di pesaro nelle cinque candidate che sono rimaste per aspirare all'evento e poi vediamo le notizie del centro vediamo un attimo ecco pael pesaro paura per incendio a malattie infettive ma nessun intossicato a urbino l'ospedale perde un altro primario va via cade martiri a mercatello una coppia di giapponesi si innamora del paese qui dicono c'è un equilibrio ideale a fano la fiera parte in tono minore malumori per l'obbligo del green pass all'aperto e di questo poi risulta amareggiato l'assessore lucarelli che afferma impegni non rispettati apriamo il corriere adriatico per vedere le notizie dell'interno a partire dal resoconto per quanto riguarda il covid sette pazienti su 38 totali avevano il vaccino completo e c'è un nuovo balzo per i ricoverati altalena tra nuovi contagi 120 sono in calo e ingressi negli ospedali è un aumento di più 9 i dati però sul rapporto tra profilassi e gravità dell'infezione si stanno muovendo e come sempre il corriere adriatico pubblica una tabella molto importante dove vengono riassunti i casi sia a livello di ricovero non intensivo semi intensivo e intensivo il non intensivo ha un totale di 38 pazienti il semi intensivo di 7 l'intensivo di 12 e poi chi legge poi il giornale potrà vedere l'andamento in più o in meno si parla sempre più diffusamente della terza dose la cabina di regia valuta il timing del nuovo ciclo la prima ipotesi resta il mese di ottobre ma se il green pass diventa valido per 12 mesi si inizierà ad anno nuovo vediamo ora le notizie sul primo piano di pesaro si parla di come è stato richiamato nella prima pagina di palestre ripartenze nel caos palestre comunali ancora senza orari domande in aumento e preparazioni al via ma mancano tuttora gli spazi la richiesta è di riproporre per i giovanessimi l'operazione sport sicuro c'è bisogno quindi di più spazi da riservare e assegnare alle società sportive nelle palestre comunali della città per ripartire in sicurezza con la nuova stagione occorre fare allenamenti è una necessità che si ripete ancora di più in questa fase di pandemia e arriva dalle società più in crescita per numero descritti e passaggi di categoria un appello più pressante sì è però in ritardo si è però in ritardo nella tabella di marcia per il calendario della programmazione annuale rispetto allo scorso anno insomma le gare in comono le necessità di allenamento pure ma però ancora mancano alcuni elementi base favorire le elezioni all'aperto un'ora d'aria per gli allunni e quello che afferma micaela vitri obbligo mascherine in classe e speranza il ministro speranza conferma l'arrivo del ministro come si poteva aspettare ha diviso la città di pesaro incontrando da un lato l'approvazione di chi come il consigliere regionale del pd michele a vitri ha raccolto il messaggio positivo delle rassicurazioni portate dal ministro e chi invece ha contestato apertamente il ministro stesso desta però preoccupazione l'impossibilità di isonerare i bambini dall'obbligo della mascherina le indicazioni del cts sembrano volersi improntare ad un maggiore rigore suggerendo l'obbligo del dpi al chiuso addirittura a partire da due anni di età insomma si va con la mano pesante docenti e studenti in fila per dire no alla certificazione raccolte 600 firme 60 insegnanti all'ultimo incontro c'è stata la fila ieri per firmare insegnanti studenti universitari i genitori no green pass si sono messi in coda nello studio dell'avvocatessa isabella giampaoli in via delle caligarie 51 dalle 16 alle 21 per opporre la loro firma alla petizione scuola redatta dal professor daniele granari per dire no al decreto che impone la certificazione verde nelle scuole insomma anche qui si contesta apertamente miracolo a mercatello sul metauro miracolo perché gli stranieri più dei residenti i quali ovviamente sono abituati perché sono nati in quel posto lo vedono tutti i giorni un miracolo per la bellezza del paesaggio lo evidenzia una coppia di giapponesi lei pitrice lui architetto vivono nell'alta valmetauro per metà dell'anno vanno un po in giappone e un po in italia in un libro sono descritti il modello perfetto di antropizzazione è una comunità coesa e solidale si tratta di due giapponesi lei si chiama sumiko è pitrice di paesaggi naturali e urbani ed ha esposto le sue opere in molte mostre personali e collettive lui si chiama yoshi fumi ed è architetto urbanista nel suo paese ha realizzato vari importanti progetti ha insegnato alla kioto university of art and design ed è autore di varie pubblicazioni di urbanistica in giappone la coppia ha sempre vissuto coniugando gli stili di vita e i valori culturali occidentali e orientali insomma giapponesi innamorati del nostro paese e non sono i soli il paesaggio risorsa del turismo che educa bellezza e socialità la provincia proposta da un tour operator alla ricerca di viaggi come crescita culturale e a corredo di questo articolo si pubblica una bella fotografia delle marmitte dei giganti di fossombrone che sono proprio uno di portabandiera del nostro enturismo dell'enturismo del nostro entroterra e qui vediamo l'articolo dell'eurovision pesaro e nella cinquina ora dice il sindaco ricci ce la giochiamo sino alla fine l'entusiasmo di ricci ma anche di vimini l'assessore vimini per la selezione finale come sede del contest europeo 2022 della canzone erano partite in 17 con le iniziali manifestazioni di interesse da lì in 11 località italiane hanno inviato il dossier di candidatura 5 sono state considerate idonee dalla commissione dopo i sopralluoghi effettuati dall'european broadcasting union e dalla rai nelle location interessate compresa l'astronave della torraccia è una gioia a prendere che siamo entrati di diritto nella fase del rush finale delle cinque città in lizza per raggiungere questo grande obiettivo hanno detto vimini e il sindaco ricci proveremo a giocarci tutte le nostre carte credendoci con determinazione fino in fondo e pesaro città della cultura pesaro cornice del eurovision insomma veramente il capoluogo si dà da fare all'ospedale va a fuoco il condizionatore paura a malattie infettive ma per fortuna non si è verificato nessun rischio l'incendio in un ambulatorio si diffonde il fumo nel reparto l'emergenza è stata gestita in sicurezza una dichiarazione del primario barchiesi tutto ha funzionato nel migliore dei modi nessuno era nella stanza e per quanto riguarda vediamo loccioni che lascia gradara e gabice per falconara il comandante iesino della polizia locale saluta dopo nove anni al suo posto al momento resta vacante gasperi e pascuzzi dovranno trovare un sostituto sulla pagina di urbino radiologia lascia cade martiri il super primario in aspettativa come lo è la moglie per un incarico a tempo indeterminato in toscana altro addio pesante purtroppo dopo mulazzani perché perché da una pianta organica in reparto mancavano già quattro medici insomma le carenze della sanità provinciale inducono molti medici a emigrare in altre regioni per avere reparti più confortati da un sostegno insomma dove si può lavorare meglio e dopo due anni l'inventore della cardiotac se ne va nel primo centro cardiologico in italia ovviamente le aspettative della sua professione sono comprensibili chi percepisce il reddito lavorerà per la città è ufficiale i progetti utili alla collettività saranno applicate con due attività e a seguito di una concertazione con i sindacati cgl cisle il comune di urbino ha deciso di attuare i progetti utili alla collettività ai beneficiari del reddito di cittadinanza a fano a fano si parla di fiera il primo consuntivo non è molto edificante 40 ambulanti danno forfè molti i vuoti ieri primo giorno della fiera nei viali dante alighieri e adriatico e amareggiato all'assessore lucarelli malumori tra i commercianti per l'obbligo del green pass ma questo era comprensibile questo vincolo mal si concilia con una manifestazione che si svolge all'aperto ma lo dicono un po tutti gli anni devo dire la verità gli operatori anche ieri sono lamentati perché c'era poca gente il tempo ha risparmiato per la rotta del culo insomma in estremis il il la fiera il maltempo però insomma questa questo obbligo del green pass più le difficoltà del commercio che ancora si sentono hanno ridotto gli affari a settembre entrano in servizio a fano 11 i nuovi vigili urbani ecco chi sono il corriere adriatico pubblica i nomi di coloro che saranno assunti a tempo indeterminato dovrebbero prendere in servizio il 20 settembre prossimo sono 11 i nuovi agenti di polizia locale nuovi uomini e due donne vincitori del concorso bandito per rimpinguare un organico palesemente sottodimensionato ma nemmeno l'inserimento delle nuove figure riuscirà a entrare a centrare anzi l'obiettivo dichiarato di dotarsi un vigile urbano ogni mille abitanti e ieri c'è stato un incidente un incidente stradale rilevante per fortuna con danni rilevanti soltanto agli automezzi e non alle persone che si trovavano all'interno un violento schianto durante un sorpasso sulla statale adriatica nord tra fano e fosso sei ore salvato dalla resistenza del crossover un un autista che era all'interno di una mercedes un uomo unfanese di 60 anni circa nella fase di sorpasso non si è accorto che dalla parte opposta sopra aggiungeva un'altra auto l'incontro è stato frontale poi la macchina che ha tentato il sorpasso è stata sbalzata contro la fiancata laterale dell'auto che stava sorpassando dove si trovava all'interno una famiglia di turisti con uomo e bambini due feriti leggeri la famiglia è rimasta indenne comunque le fotografie mostrano chiaramente la violenza dell'impatto che si è verificato tra le due auto una bella iniziativa ieri all'aeroporto di fano i ragazzi della comunità hanno spiccato il volo ieri mattina all'aeroporto 18 ragazzi della comunità educativa a merlara di savignano sul rubicone hanno potuto volare e vedere l'effetto che fa il mondo visto dall'alto una bella iniziativa di solidarietà resa possibile dal rotary club di rimini riviera in collaborazione con i piloti e gli aeroplani della eagle aviation academy e dall'aeroclub di fano iniziative queste che vengono fatte non di rado dagli uomini che sono all'aeroporto di fano sulla palmetauro fossombrone l'ospedale rimanga pubblico si scalda la campagna elettorale questa è una dichiarazione della candidata sindaca gloria mei che chiede il ripristino del punto del primo intervento progetto comune che candida sindaca di fossombrone gloria mei assessore uscente alla cultura che sottolinea che l'esperienza del covid ha evidenziato a fossombrone l'esigenza di un ospedale di prossimità da difendere a tutti i costi nella nuova scuola e torniamo a fano i bambini devono andare da soli è una dichiarazione questa dell'ex dirigente scolastico antonioni che ricorda l'impegno per il plesso di carrara plesso che dovrebbe entrare in funzione a settembre proprio nei prossimi giorni con l'inizio del nuovo anno scolastico una bella scuola nuova con arredi nuovi con un bel scoperto una palestra e laboratori aule due cicli di lezione per bambini delle elementari che così potranno godere di un nuovo edificio e veniamo alla val cesano si parla di enogastronomi enogastronomia di apergola vino e territorio da scoprire con la staffetta del bianchello venerdì la tappa pergola con la proiezione del secondo dei quattro docufilm girati si tratta della staffella del bianchello un progetto realizzato per la prima volta da Sara Bracci nel 2013 l'indimenticata Sara Bracci e veniamo ora al resto del Carlino il resto del Carlino nelle pagine interne vediamo subito il problema della scuola scuola e green pass la regione pronti a fare i test salivari a tutti l'assessore all'istruzione Giorgio Alatini incontra i movimenti per la libera scelta in arrivo 500 mila tamponi una intervista in cui figura che tra le richieste c'è quella dell'utilizzo dei tamponi salivari ai fini dell'ottenimento del green pass il ministero ne riconosce l'attendibilità ma non prevede questo tipo di screening tra i requisiti validi per l'ottenimento del certificato verde e poi si evidenzia anche l'attentato tra virgolette messo preordinato ma non messo in atto nei confronti del ministro speranza uova destinate al ministro ritrovate in un giardino accanto alla farmacia e qui vediamo il ministro che taglia il nastro alla farmacia comunale di pesaro ladri di scooter ancora in azione e ricompare il ducato bianco il furgone che carica gli automezzi che vengono rubati e parte per chissà quale destinazione e la testimonianza di una pesarese derubata del motociclo mentre era al mare ho visto quel furgone ha detto questura i carabinieri confermano un'impennata dei furti del doppio rispetto all'anno scorso ben 16 denunce arrivati in questura ad agosto contro le sette dello stesso periodo del 2020 e arrivano gli afghani anche dieci bambini stanchi e impauriti rischiavano di morire accolti al covid hotel di gabice mare dove resteranno in quarantena il sindaco pascucci dice un segnale di vicinanza e di solidarietà una dichiarazione anche del assessore regionale aguzzi presto potrebbero arrivarne altri noi siamo pronti ad accoglierli in questo senso le marche si mostrano sempre più solidale si parla ancora di roff sul resto del carlino 8.500 presenze 650 mila euro di incasso ecco i numeri del festival condizionati dalle restrizioni legate al covid ma gli spettatori stranieri sono stati il 52 per cento 16 giorni per 25 spettacoli un successo che monta e valorizza il programma del prossimo anno che il prossimo anno il roff si terrà dal 9 al 21 agosto in programma proporrà due nuove produzioni liriche le com dori diretto da diego matthiuss e messo in scena da jugodeana e poi l'hotello con la direzione di iva abel e la regia di rosetta cucchi e poi oltre a roff c'è l'eurovision una sfida a 5 e pesaro c'è la città tra le finaliste per ospitare il festival internazionale del 2022 dovrà vedersela con milano torino bologna e rimini entro la fine del mese dovrebbe arrivare il verdetto vimini dichiara noi siamo pronti e a pesaro si svolge anche la festa dell'unità stasera c'è bonafè e ceriscioli il taglio del nastro è previsto alle ore 18 in piazza del popolo dove alle 18 e 30 si terrà il primo dibattito le responsabilità di essere sindaco con simone uggetti ex sindaco di lodi maurizio mangialardi capogruppo del pd in consiglio regionale mauro dini sindaco di lunano giuseppe paolini presidente della provincia e presidente della provincia alle 21 e 30 il tema sarà dall'europa rinasce l'italia ne parleranno simona bonafè eurodeputata del pd luca ceriscioli ex presidente delle marche augusto kurti sindaco di force nell'ascolano e presidente del lance dei piccoli comuni giriamo ancora la pagina e vediamo che il maltempo continua a fare danni strade invase da acqua e fango da dieci anni la stessa storia a santa maria dell'arzilla insorgono i residenti di due vie dopo il temporale dell'altro giorno ma anche quello di stanotte non deve aver migliorato la situazione una lapide per sette civili caduti sotto le bombe a babucce l'omaggio ai pesaresi che persero la vita nel 44 sulla pagina di fano anche il resto del carlino interviene al sulla fiera calano gli stand eppure gli affari e questa la fiera del green pass debutto sottotono per il tradizionale appuntamento legato a san bartolomeo l'assessore lucarelli il calo è del 20 per cento tra gli espositori gli ambulanti molti hanno chiuso a causa del covid e c'è stato ieri anche il camper vaccinale in sassone a fano camper vaccinale al debutto 65 persone in fila somministrazioni davanti all'ufficio turismo di viale battisti dalle 18 alle 22 e domani si replica nella stessa ora anche il carlino parla della paurosa carambola che si è verificata ieri sulla statale 16 nord tre auto coinvolte e un ferito non grave nel frontale sulla nazionale alla faccia della crisi idrica il comune chiude due laghi artificiali si trovano a monte schiantello ed erano stati creati per l'irrigazione dei terreni ma ormai sono asciutti e non servono più concludiamo la nostra rassegna stampa con le notizie di sport vediamo che la vis incontra un avversario sconosciuto è il siena l'ultimo incrocio con i bianconeri risale al 92 93 ormai è storia per il resto c'è una sfizza di sfide 14 nella c unica dei ruggenti anni 60 per quanto riguarda l'alma invece giorgini non va in ritiro la novità dell'ultima ora è che al raduno di rivisondoli l'unico che non ha dato notizie vediamo di inquadrare meglio l'articolo ecco l'unico che non ha dato notizie di sé è stato l'ex difensore granata andrea giorgini probabilmente lo si è capito il giocatore non vuole più restare al fan bene con questa notizia concludiamo la nostra rassegna stampa massimo foghetti vi saluta vi dà appuntamento al tg delle ore 20 e 30 buona giornata grazie a tutti